L'autopsia sulle vittime, una consulenza dinamica, certamente di natura tossicologica. La Procura ha disposto le prime verifiche per fare piena luce sul tremendo incidente avvenuto lunedì pomeriggio lungo la provinciale Cadorna sul Monte Grappa, in località Costa Lunga, e costato la vita a Filippo e Gloria Bonin, padre e figlia di 47 e 11 anni. Dopo la denuncia dei carabinieri di Bassano, il pubblico ministero, Cristina Carunchio, ha iscritto sul registro degli indagati il 44enne alla guida della moto che si è scontrata con quella di Bonin.